Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo il Vangelo di Marco, capitolo 10, versetti 28 a 31. In questo brano Pietro chiese a Gesù, ma noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa avremo come ricompensa? Gesù rispondendo a Pietro disse, ma chi abbia lasciato tutto per me e per il Vangelo avrà il cento bullo sulla terra insieme alle persecuzioni e poi come eredità la vita eterna. Ecco, questa è la risposta di Gesù a Pietro. Per capire meglio questa domanda di Pietro, tocca vedere il Vangelo di ieri. E ieri si parlava del giovane ricco che aveva tutto, ma gli mancava proprio il regno di Dio. Gesù gli ha chiesto di vendere tutto e di seguirlo. Questa risposta non è stata accolta da questo giovane. Ha preferito tornare a casa triste che mettere in pratica la raccomandazione o i consigli di Gesù. E gli appostoli chiedono dunque a Gesù, ma Gesù nel discorso continuava per dire quanto è difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli. Perché finché rimarrà attaccato alle sue cose, pensa, ecco, tutto sarà, la sua sicurezza sono questi soldi, questi beni materiali, diciamo così. E gli appostoli poi alla fine hanno detto a Gesù, ma chi può salvarsi, chi può essere salvato, se è difficile per un ricco di entrare nel regno di Dio. Allora, l'impressione che ti dà è di pensare che la ricchezza impedisce di entrare nel regno di Dio. Assolutamente no, ma l'uso della ricchezza, perché Dio ci ha dato le mani per lavorare, guadagnare la vita. Ma la difficoltà per un ricco viene quando non riesce a condividere, quando non vive la povertà. È lì che diventa più complicato per un ricco di entrare nel regno di Dio. Dunque, per essere salvato, tocca vivere nella povertà, aiutare, condividere ciò che qualcuno ha. Ecco perché Gesù dice oggi a questi apostoli, ecco, chi abbia lasciato tutto avrà il centuplo. Cioè, colui che abbandona tutto per causa del Signore. Perché nel giovane dico, Gesù ha chiamato il giovane dico, vedi e seguimi. Dunque, abbandona tutto e tu vieni con me, convertire, avrai ciò che ci manca. Però il giovane non aveva capito il pensiero di Gesù. E qui con gli apostoli la cosa sembra più chiara. Con la risposta di Pietra la cosa sembra più chiara. Ecco, dunque, chi abbia lasciato tutto per il Vangelo e per Gesù, nulla li mancherà. Dunque, se un ricco condivide da chi ha bisogno, ovviamente avrà accesso al Regno dei Cieli. Il problema per un ricco è di non dare il superfluo, ma di dare con tutto il cuore, tutta la mente, tutta la forza, tutta l'intelligenza, tutto l'amore che ha per il bisognoso. Ecco, quello importante. Gli apostoli hanno fatto la stessa cosa, hanno lasciato tutto e hanno seguito Gesù. Dunque, sicuramente Pietro si trovava in questa difficoltà, ma noi eravamo comunque ricchi, cioè, tra virgolette, vivevano delle mente con un lavoro rassicurato, ma con Gesù non c'è un lavoro. Allora, qual è la nostra ricompensa? Ecco perché Pietro ha fatto questa domanda. Ma Gesù è chiaro, tutti quelli che lasceranno tutto per il Vangelo avranno il centuplo e in eredità la vita eterna. Come per dire, carissimi, la vita cristiana si vive nella povertà, la povertà evangelica, non la miseria. Perché qualche volta confondiamo la miseria e la povertà, ma Dio vuole la povertà, ma non la miseria. Dio vuole colui che ha per condividere. Lavoriamo per vivere sia noi che anche gli altri. E' quello che Gesù vorrebbe dire a ciascuno di noi. La grazia di Dio viene a chi veramente ha un cuore povero, beati i poveri di spirito, beati i poveri. La grazia di Dio si manifesta a colui che apre il suo cuore verso Dio, verso Gesù, verso gli altri. Colui che vive proprio questa povertà evangelica. Non ritiene per lui, non è egoista, non si vanta, ma ha un'attenzione verso le persone bisognose. E questo modo di vivere la vita cristiana ci aiuta proprio a seguire dignamente Cristo e anche a entrare nel regno di Dio. E nulla ci può mancare, perché il Signore è il nostro pastore, nulla ci mancherà. Se veramente Gesù Cristo, o diciamo affidati a Lui, nulla ci mancherà, sulla terra e in cielo. Dunque non pensiamo che solo quando moriremo saremo, no, assolutamente anche sulla terra, troveremo ciò che è necessario per la nostra vita. Allora chiediamo allo Spirito di aiutarci a sapere spogliarci, a sapere abbandonare tutto ciò che ti impedisce di vivere degnamente la nostra vita cristiana, tutto ciò che sarebbe come un ostacolo a seguire Cristo, per poter trovare proprio il centipro promesso a Gesù, agli Apostoli e a noi. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre.